Siamo impegnati sul campo a 360 gradi perché l'area di Altilia, l'antica Sepinum, è uno dei luoghi cardine dell'archeologia di questa regione, questa cosa è ben nota. Quello che per oggi noi andiamo a proporre è uno sguardo sui risultati della ricerca archeologica al di là anche di questo contesto straordinario, prezioso, unico nel suo genere. Per cui, come vi abbiamo annunciato, andiamo a parlare sia dei lavori e delle riscoperte condotte, diciamo i ritrovamenti nuovi, le novità nell'area di Sepino, ma anche di tutta un'altra serie di questioni che vengono da quell'attività di scavo che è proprio legata ai temi della tutela che è quella dell'archeologia preventiva. E a proposito delle rivelazioni sui risultati delle campagne di scavo degli ultimi mesi annunciate nell'intervista da Dora Catalano, titolare della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, il primo rinvenimento è da annoverarsi nell'ambito della cosiddetta archeologia preventiva citata proprio da Catalano, cioè di quella branca dello studio che ha l'obiettivo di conciliare le esigenze di tutela del patrimonio archeologico e le attività legate alla costruzione di infrastrutture. Ebbene, i lavori del metanodotto Larino Chieti, il cui tracciato interessa sette comuni molisani, hanno permesso di riportare alla luce antiche necropoli tra Monte Cilfone e Monte Nero di Bisaccia. Le prime risalgono al VI e al IV secolo a.C. Le seconde coprono un arco cronologico che va addirittura dall'VIII al IV secolo a.C. Per quanto attiene invece alla ricerca pura, nell'antica Sepinum, rileva l'attività che ha reso possibile la conoscenza delle fasi costruttive di un tempio su alto podio, costruito all'inizio del I secolo d.C. e che si inserisce nell'ambito del grande progetto urbanistico di età augustea. Gli scavi della parte antistante l'edificio hanno inoltre consentito di ricostruire le vicende legate all'abbandono della struttura dopo la dissoluzione dell'impero romano d'Occidente. Con il prosieguo del progetto, ha sottolineato ancora la soprintendente, si prevede per il prossimo anno la conclusione dello scavo e la sistemazione dei percorsi per inserire il tempio romano all'interno del percorso di visita dell'area archeologica. Grazie a tutti.